Crisi in comune tutta in salita. A questo punto il Cerino dovrà spegnere il sindaco Petrangeli. Il partito democratico non ha posto vincoli sui posti in giunta, tantomeno ha messo veti sulla scelta della distribuzione delle deleghe degli assessori riconfermati. Il sindaco Simone Petrangeli avrebbe avviato nei giorni scorsi trattative riservate con quella parte del PD ostile al segretario Curini per mettere in difficoltà la maggioranza interna al partito di Viacinzia. Una mossa contestata anche dai maggioretti del partito di maggioranza relativa in comune che tentava di spaccare al suo interno un partito che aveva posto temi e non poltrone nell'ultima riunione con il primo cittadino. Fino a qualche ora fa l'unica assessora a dover lasciare la poltrona sarebbe stato Marcello Degni ma da ieri sera le cose sono cambiate in una riunione fiume con i consiglieri comunali. Marcello Degni da Londra smentisce la sua uscita dalla giunta in accordo con il sindaco. Guardi almeno risulta, io sto all'aeroporto e sto rientrando da Londra, qui i massimi che avevo io sono diversi e comunque quando arrivo a Roma mi aggiornerò. Ma col sindaco ci ha parlato? Sì, sì, mi sembra che la situazione era diversa. Corte dei Conti, Ministero dell'Interno e Cassa, Depositi e Prestiti, enti con i quali degni a rapporti privilegiati e poi sarebbe stato sconfessare tutto il lavoro per rimettere posto i conti del comune. L'unico ad entrare dovrebbe essere Vincenzo Giuli che sta trovando ostacoli importanti da parte dei partiti. Nei fatti nulla cambierà se non le deleghe. Mezzetti ha la prova dei lavori pubblici e Cecilia rimarrà con l'urbanistica, come è accaduto nell'ultima giunta ai mili, un grande rimpasto come se nulla fosse successo.